E' sbarcata anche in Versilia la raccolta di firme a sostegno della Next Generation Tax, progetto di legge ed iniziativa popolare promossa da Sinistra Italiana. La conferenza stampa si è tenuta stamani, presso la Croce Verde di Rito di Camaiore. Erano presenti Giuliano Bartelletti, assessore di Seravezza, il collega Gabriele Baldaccini, assessore a Camaiore, l'avvocato Teziano Nicoletti, consigliere comunale a Viareggio. A illustrare il progetto di legge, Alberto Pellicci, coordinatore provinciale di Sinistra Italiana, e Fabio Panicucci, responsabile versiliese del partito. Stiamo raccogliendo le firme a livello nazionale, la New Generation Tax, una proposta ridistributiva del reddito che serve per togliere i grandi capitali per poter rifinanziare un'equità fiscale maggiore. Questa si tratta di una nuova imposta progressiva sostitutiva, nuova perché è istituita per nuova, con una franchiglia di 500.000. Cosa viene a tassare? Viene a tassare i grandi patrimoni, quelli oltre 500.000 con un'alicota progressiva, 0-2%, è sostitutiva perché è alternativa all'imposta sui conti correnti di bollo e sui titoli, quindi chiaramente anche sul Limo. E il gettito previsto, superiore a quello attualmente del Limo, che è 22 miliardi circa, dovrebbe essere di 32, quindi 10 miliardi in più. E come è previsto, vengono destinati specificamente all'istruzione, alla sanità, proprio con un articolo 3 che prevede un fondo che deve ridistribuire questa imposta specificamente su questi capitoli.